Eccoci quindi qui ragazzi allora, bentrovati dai due Marchesi, Rosso e Blu Facevamo un video insieme da un'era, penso forse neanche dall'ultima partita di campionato No perché l'avevo fatta da solo Mamma mia, comunque era una vita e non facevamo qui un video Comunque era ora di ritornare a parlare perché le cose che sono successe sono tante Mamma mia Ho fatto il video parlando dell'incontro che c'è stato tra i tifosi e il presidente Però non abbiamo ancora parlato del nuovo allenatore, dei nuovi acquisti e dei nuovi possibili acquisti E anche delle gestioni Quindi abbiamo deciso di fare questo video generale che magari durerà un pochino ma comunque cercheremo di riassumere in breve Dedicato all'arrivo del nuovo allenatore, all'arrivo dei nuovi giocatori, la partenza di altri giocatori e nuovi possibili colpi di mercato Partendo prima di tutto a livello temporale, dalle gestioni I giocatori più importanti che sono partiti comunque sono tra tutti Casiraghi Ci sono delle voci che possono andare a Terni tra l'altro Andare a Ternana e sicuramente è una partenza anche triste diciamo Perché comunque il giocatore è da tanti anni che stava a Gubbio Quindi comunque è una squadra che non è abituata a tenere i giocatori così tanto tempo Però hanno voluto scegliere di fare, di ripartire completamente da zero Scelta che può essere condivisibile però deve essere fatta con ponderazione Un criterio Un criterio perché devi essere Cambiare non vuol dire farlo per forza è meglio Esatto però era palese che bisognava dare una sterzata perché sono due anni che facciamo campionati Mediocri Sì quest'anno abbiamo sperato i playoff ma perché era il decimo posto Era un miracolo Se fossero stati come Erano più vicini ai playoff che ai playoff Ah sì sì assolutamente Che poi paradossalmente siamo arrivati a più sei nei playoff e a meno due nei playoff alla fine del campionato Però non ce li meritavamo per tutte le partite che avevamo fatto Per tutti i punti persi da cretini come Come con la triestina Però vabbè comunque non siamo qui per ripensare al passato Comunque in casita che sicuramente il nome più importante che è partito Hai fatto anche il video parlando della partenza del allenatore Nanno Galderisi e al suo posto è arrivato Federico Guidi Federico Guidi Nonché di Francesco Nonché assomiglia anche a Di Francesco e questo mi preoccupa fortemente Il primo Di Francesco Fammo il primo E comunque è un allenatore quindi molto giovane che viene dall'Italia Under 19 Under 19 Quindi ha deciso comunque di fare questa esperienza Tra l'altro lui stesso ha detto per aver rifiutato l'Italia E aver scelto Gubbio Già mi devono fare un europeo tra l'altro Esatto Già mi devono dare la patente di matto E io sinceramente Io la darei volentieri No io la darei volentieri perché c'ha ragione La patente La patente Comunque cosa ne pensi di questo arrivo in panchina? Io sono felice parecchio Perché comunque sia è un allenatore che è giovane Mi ricorda molto come torrente quella volta Che non aveva mai allenato squadre Solo fatto dai giovanili Quindi è un allenatore che conosce alla perfezione i giovani Ha lanciato giocatori di tutto rispetto come Bernardeschi Chiesa Quindi non è che parliamo di giocatori che sono andati a giocare con il Ponte d'Assi E soprattutto rispetto per il Ponte d'Assi Che poi è anche vicino a casa sua Esatto Però in generale comunque ha dimostrato Di avere le capacità E comunque il fatto che sia giovane Può essere un motivo per credere in lui Perché ovviamente non è che i giovani per forza Sono più bravi dei più anziani Però comunque Sta dimostrando di avere voglia di fare Assolutamente Aver rinunciato a una cosa così importante come la nazionale Per il Gubbio Vuol dire che ha voglia di costruire qualcosa Assolutamente Che non è arrivato qua per fare la pensione Ma poi appunto parliamo di un allenatore che Te lo ripeto conosce la perfezione dei giocatori Quindi sicuramente i giovani che andremo a prendere Saranno sicuramente giocatori che lui ha avvicinato Che lui conosce Possiamo chiedere in nome della sua vecchia amicizia con Bernardeschi Che ho chiesto Se vengono a fare un annetto di presso Esatto Se volete venire giù magari Che poi dall'altro sebbono pure fuori quota Perché possono pure dai soldi 1,97 Sono loro che stipendiano il Gubbio Non il Gubbio Mamma mia Comunque appunto Anche io sono contento di questa scelta Perché ci voleva l'infa vitale Area nuova Sì ma comunque ci voleva anche esperienza Perché anche Sandriani era giovane Purtroppo a peccato di inesperienza Mentre invece Nonostante questo allenatore Credo abbia 42 Barra 43 anni Comunque Ha già diversi anni Da allenatore sulle spalle E può essere un buon Un buon motivo Anche per far venire i giovani Che magari vedendo quello che ha fatto lui Negli anni passati Possono sentirsi Esatto Motivati Esatto Poi una bella cosa che vedo questi giorni Che io commento su tutto ci Commento su tutto il mercato web Trovo sempre la parola Gubbio Quindi vuol dire che parlano di noi Che già almeno Ci vediamo Ci sono dei movimenti Perché mi ricordo gli altri anni Arrivavamo a Fine giugno Che non c'era nessuno Nel giro di 10 giorni 20 giocatori E non c'è nemmeno chi erano E poi ti ritrovi con la squadra Assemblata Come quella volta che non so Quando mi ricordo Quale partita Ha segnato un giocatore Che nessuno conosceva Il Telecrisil Radio Sil Quello dello stadio Comunque lo speaker Ha detto il nome E tutti zitti Perché non sapevano Che cazzo fosse questo Ma chi dovevo dire Però a parte questo Comunque Già il fatto che la squadra Si sta cercando di creare Fin dai primi giorni È importante Perché comunque Un allenatore nuovo In una piazza nuova Deve avere la possibilità Di lavorare Con i propri giocatori Con i giocatori Che vuole lui Per più tempo Non solo così fatti Tata tata Esatto Deve avere modo Di conoscere i giocatori Di metterli nelle condizioni Di fare bene Esatto Quindi Questo è in conclusione Il discorso legato Al nostro allenatore Al quale ovviamente Facciamo un grosso In bocca al lupo Perché ne avrà bisogno Ne avrà veramente bisogno Di riportare la gente Allo stadio Che infatti lo hai detto Ti voglio riportare la gente Come nei tempi passati Quando il Gubbio fu Andava in Serie B Quindi Già queste parole A me sono piaciute Ma contenterei anche Della metà della gente Ah beh sì 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 Come su 2000 Che fai le butti via Vado vado Comunque allora Questa era l'analisi Dedicata a nuovi allenatori Come vi abbiamo detto All'inizio del video Vogliamo dedicarci Sia al passato Che al presente Ma anche comunque A nuovi possibili acquisti Partiamo prima di tutto Però da quello che È più vicino Ufficiale Quello che è ufficiale Che è Cesaretti Che ha giocato l'anno scorso Con la Paganese Purtroppo la Paganese È retrocessa È il play out Ma nonostante tutto Ha fatto Tramite play out Ma nonostante tutto Ha fatto 10 gol Andare in doppia cifra Con una squadra Retrocessa Quindi con una squadra Scarsa Non è da tutti Perché fare Doppia cifra Con una squadra Appunto Che non è delle migliori Che quindi probabilmente Avrà fatto Io non lo so Perché non ho visto La stagione Però sicuramente Avrà fatto tutto da solo Nella maggior parte Dei casi Quindi in questo Dimostra la bravura Che poteva essere Come quella volta Marchi con noi E Scusate un attimo All'interruzione Comunque stavamo dicendo Un po' Fare 10 gol Con una squadra Scarsa È un po' Come ha fatto Marchi Due anni fa Che aveva detto Questo è un fenomeno Doppia cifra Con una squadra scarsa Quindi potrebbe essere La stessa cosa Per appunto Cesaretti Un giocatore Di tutto rispetto Che io sono contentissimo Che è arrivato a Gubbio Esatto Comunque Ci sono anche altri nomi Comunque Per quanto riguarda I reparti vari Rosso-blu Sia in davanti Che a centrocampo Che in difesa Un altro nome Ad esempio Latte-Latt Famoso comunque Per avere un nome Fantascientifico Comunque bellissimo Fortissimo Con gli uomini dell'Atalanta Sì Giocava con gli uomini dell'Atalanta Credo l'abbia segnato Anche alla Juve In Coppa Italia Mi sembra di sì Ha giocato Allo scorso Con la Carrarese Ha fatto due gol Che non è tantissimo Però Comunque È uno dei nomi Che potrebbe interessare Il sogno Per il reparto Centrocampo Ovviamente C'è Inciarelli Nativo di Umberti Tra l'altro Qui vicino Ex-Viterbese Perché è stato svincolato Si è svincolato Quindi può essere Oltre 100 presenze Con la Viterbese Fortissimo Magari fosse Lui sarebbe il sogno Per il reparto Di centrocampo Perché è considerato Diciamo che Essendo svincolato Bisogna convincerlo Bene Esatto È considerato Uno dei migliori centrocampisti Di tutta la Lega Però Giustamente Guidi lo conosce bene Perché lo ha allenato E Quello Rimane Un sogno Che si avviene Tanta roba Ok Poi si parla anche Di un certo Alessandro Alessandro Che è l'esterno Del Cesena Ha fatto Gianclus è svincolato Ha fatto Mi sembra Mi sembra Tipo 15 gol Con il Cesena In serie di Tascini Dal Bastia Umbra Che ha fatto 17 gol Ho mancato solo Di attaccanti Questa cosa mi piace Sì sì Ovviamente Bianchimano Dal Perugia Che ha giocato Con il Catanzaro Ha fatto molto bene Classi 96 Quindi un buon giocatore E poi E poi abbiamo anche Bacchetti Che praticamente Che è una cima Una spazia di Un metro e 94 Gigantesco Sarita mia 93 94-93 Dove essere tutto uguale 94-94 Esatto Che poi comunque sia Parliamo appunto Di un Difensore centrale Molto 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 forte Ha giocato anche Con il Catania Quindi I giocatori I movimenti Mi stanno piacendo Molto Devono essere Confermati tutti quanti Però già comunque Che appunto Come hai confermato tu Si parla Di possibili acquisti Per il Gubb Già da adesso È importante Perché così Almeno Guidi avrà la possibilità Di costruire una squadra Adatta a lui Adatta al suo stile di gioco E poi potremo vedere Quello che succederà Cioè non vuol dire Che con questo Vinceremo sicuro Il campionato Magari Però già il fatto Che appunto L'allenatore Abbia le idee chiare Su quale squadra fare Va bene Certo Non sta di lì Tanto per Ma perché vuole fare Finalmente un allenatore Che comunque sia Si vuole mettere in gioco Esatto Un allenatore che si vuole mettere Perché comunque sia Sappiamo tutti Calderisi era un allenatore Bravissimo Ultramega navigato Fortissimo Diciamo che io volevo Proprio Se non era Calderisi Infatti l'ho detto Se non fosse Calderisi Un allenatore Che ha fame Che ha voglia di arrivare E guidi È sicuramente Il profilo Giusto Io sono sicuro Che lui sarà L'allenatore perfetto Per questo nostro Gubb Grazie Dai vabbè Tocchiamoci però Me lo auguro Di tutto cuore Spero di non sbagliarmi Perfetto ragazzi Allora quindi Questa era la nostra analisi Per quanto riguarda Non me ne frega un cazzo Comunque seguitelo Se non lo seguite Vi picchio Iscrivetevi al canale Se ancora non lo avete fatto Perché siamo quasi vicino Ai 500 iscritti Tanta roba per Google Esatto Poi vi promettiamo Che da qui in avanti Cercheremo di caricare Più video Magari non un video unico Rassuntivo di tutto Ma anche un pochino Più sparsi Dedicati Ma non ti dico A singoli giocatori Però magari a 2-3 voci Ogni tanto Che sono tranquillamente 3 video mesci in uno Esatto Per dare continuità Comunque al canale Perché è giusto Che diamo continuità E che voi seguate Più video possibili Sul nostro canale Un saluto dai due Marchesi Rosso-Blu Un numero uno Un numero due Un numero due uguale Non è uguale E io uno e due E io uno e due Ti piacerebbe Un saluto Sempre Forza Cubbie E alla prossima Ciao ragazzi Ciao